Se mi segui sai che da qualche settimana mi sto occupando di andare a vedere nel dettaglio quali sono le regole per negoziare con efficacia. Ne abbiamo già viste un paio, ti invito ad andare a vedere un po' i video sul mio canale, oggi però ti parlo della terza regola per negoziare con efficacia. Ne parlo in questo video. Ciao, sono Stefano Cera e da oltre 20 anni mi occupo di formazione nella comunicazione efficace, la gestione delle controversie e in generale tutto l'aspetto legato a come si comunica e come si gestiscono le relazioni. Da qualche anno sono anche il presidente della delegazione del Lazio di AIF, associazione italiana formatori. Proseguiamo in questa lunga carrellata 10 regole su come negoziare con efficacia. Come ho detto anche nella intro di questo video ho già parlato di due regole e puoi trovare i video tranquillamente nel mio canale, nella playlist anche sulla negoziazione. Oggi però ti voglio parlare di questa terza regola. Attenzione questa regola peraltro è anche uno dei quattro principi, uno dei quattro principi della negoziazione di Harvard o meglio della negoziazione così come descritta dall'Harvard Law School, Harvard Negotiation Project all'interno dell'Harvard Law School. Qual è questo principio del negoziato integrativo? Scindere le persone dal problema, è il primo di questi quattro principi. Perché è importante scindere le persone dal problema? Faccio un po' un esempio che potrà essere utile. Spesso quello che ci capita in un conflitto, in una controversia, quando abbiamo una difficoltà relazionale o una situazione particolare, noi tendiamo a vedere il problema non tanto come il problema, ma il problema come la persona che per noi rappresenta il problema. Sto andando sul filosofico? Forse. Peraltro Jack Sparrow, interpretato dal grandissimo Johnny Depp nella saga di Pirati dei Caraibi, dice il problema non è il problema ma è il tuo atteggiamento verso il problema. Ecco, in qualche modo la sintesi di questa citazione, o meglio questa citazione rappresenta una sintesi molto efficace della necessità in un conflitto di scendere le persone dal problema. Perché? Perché in un conflitto e quindi in una negoziazione come strumento efficace per gestire una situazione di controversia, noi tendiamo a identificare la persona con il problema. Il punto è che sono due parti completamente diverse. Il problema è quello che ci divide dalla persona. La persona è invece la protagonista, come noi lo siamo, rispetto a questo conflitto. Quindi se c'è un allineamento tra persona e problema, significa che noi il problema non lo vediamo proprio per vedere soltanto quello che è la persona. e quindi abbiamo a che fare con una personalizzazione del problema, cioè tutto ruota intorno al fatto che quella persona mi sta antipatica, quindi quel problema che esiste con lei o la situazione che esiste con questa persona è risolvibile e così non è. È importante scendere quello che è la nostra percezione, il nostro punto di vista, quello che noi pensiamo su questa situazione, che è distinta dalla persona con cui abbiamo questa situazione in piedi. È fondamentale, non è facile, mi rendo conto, ma è importante farlo per scindere i due aspetti, perché noi potremmo andare a gestire nelle trattative il contenuto di una situazione, di un problema, di qualcosa che ci divide senza entrare nel dettaglio della relazione. Io vi posso dire che se noi gestiamo questa parte contenutistica inevitabilmente c'è un effetto benefico anche nei confronti della relazione con il problema, assolutamente è così, ma se noi non possiamo fare nient'altro che avere a che fare con questa persona, considerare questa persona come il problema non ci aiuterà, anzi non fa altro che peggiorare la situazione. Quindi la prossima volta che vi mettete su da un tavolo di trattative, magari avete a che fare con una persona che non è simpatica, su cui in passato avete accumulato un rancore, qualcosa che non vi è piaciuto, è chiaro che dovete considerarlo, ma dovete anche considerare al meglio quelli che sono i contenuti e lavorare su questi. Lavoriamo come sempre, accade sui comportamenti, su ciò che è accaduto, non sulla persona, perché sulla persona penso che si potrà fare poco, anche se come ho detto nel momento in cui andiamo a gestire una situazione specifica, un effetto benefico lo abbiamo anche sul piano relazionale, ma non è questo che ci interessa quando negoziamo qualcosa, è quello che possiamo risolvere con questa persona, che conta molto di più. Bene, se ti è piaciuto questo video ti ricordo di iscriverti al mio canale, ti ricordo anche di attivare la campanella per non perderti alcun aggiornamento, tra l'altro su questi temi io ne parlo in due corsi che trovi anche su diverse piattaforme e tutti i link, tutti i riferimenti li trovi nella descrizione di questo video. Infine per rimanere in contatto con me ti ricordo i miei canali social, la pagina professionale Facebook, il profilo LinkedIn e anche il mio sito www.stefanocera.com. Grazie e al prossimo video sulla negoziazione.